Il Consiglio dei Ministri si prepara ad esaminare ed approvare il decreto Campi-Flegrei richiesto dai sindaci dell'Area Rossa. Il testo prevede quattro voci fondamentali, un piano straordinario di analisi della vulnerabilità del territorio, un piano di comunicazione alla popolazione col coinvolgimento delle scuole e delle aziende, con un periodo di esercitazione e di protezione civile, una pianificazione d'emergenza per l'area interessata dal bradisismo, la verifica delle funzionalità, delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali, il potenziamento delle strutture operative di protezione civile nei comuni interessati. C'è poi il capitolo vie di fuga, che però, come ha sottolineato il Ministro Nello Musumeci, vanno concepiti in un contesto di pianificazione urbanistica. Prevederle in un territorio già occupato da un'alta densità diventa difficile. Ieri è stata una giornata impegnativa per i sindaci dell'area. Prima l'audizione alla Camera, poi un lungo vertice con il prefetto di Napoli. Per venire incontro alle richieste dei primi cittadini alle necessità attuali servono soldi, ma non è solo una questione di fondi, perché per il monitoraggio serve anche personale per eseguirlo, come ha ribadito ieri lo stesso sindaco di Napoli, Manfredi. Intanto le scosse non danno tregua ai cittadini dell'area a rischio. Questa mattina una scossa di 2.6 di magnitudo. Gli abitanti, soprattutto i residenti a Pozzuoli, epicentro del bradesismo, trascorrono notti insonni in attesa di una scossa. I nervi sono messi a dura prova, ecco perché sono previsti anche aiuti psicologici alla popolazione.